Solo con le capsule compatibili Respresso Mescla Asul puoi gustare un caffè che esprime l'equilibrio perfetto tra corpo, persistenza e dolcezza. Nobile come le miscele più pregiate che lo hanno visto nascere, vigoroso come il sapore e la carica dell'espresso più autentico, impossibile non innamorarsene al primo sorso. Caffiblitz.shop Vendita cialda e capsule di caffè Borbone compatibili con le principali macchine da caffè, scopri le offerte. Sul nostro sito, infatti, troverai sempre delle offerte vantaggiose per l'acquisto di cialde e capsule compatibili.